Chiederò tavolo di confronto con Eave Associazioni. Scende in campo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della quarta commissione regionale speciale innovazione e digitalizzazione Gennaro Saiello. Una richiesta che arriva dopo la soppressione di 39 corse al giorno, la chiusura di due stazioni e l'utilizzo a scartamento ridotto di quattro fermate. Senza dimenticare, aggiunge Saiello, che le stazioni depotenziate o chiuse sono prevalentemente in zone feriche, in barba a tutti i progetti regionali di recupero delle periferie. Invochiamo un cambio di rotta nella gestione di quella che da anni gli ultimi rapporti pendolari a descrivono numeri alla mano come il peggior servizio di trasporto pubblico d'Italia. E prosegue, è necessario che oltre a prevedere un numero maggiore di treni, che siano più confortevoli e sicuri, si metta a mano un'organizzazione di corse fermate che tenga conto delle reali esigenze dei viaggiatori. In effetti, la decisione dell'EAV di sopprimere la tratta Napoli-Pompeo-Giomarino ha generato proteste e sconforto tra i numerosi pendolari, studenti, lavoratori, che si chiedono perché, per una diatriba tra aziende e sindacati, si fanno pagare le conseguenze ai viaggiatori. Una situazione in netto peggioramento rispetto agli anni precedenti, come emerge dall'analisi dell'Ursa, che ha evidenziato come l'EAV si stia vantando oggi di effettuare una corsa in meno rispetto al 2012, con 67 treni disponibili rispetto ai 36-40 di allora, e inoltre che gli orari dei treni non corrispondono alle esigenze del bacino di utenza. La responsabilità, concludono, non può essere scaricata quindi sui lavoratori, che vengono utilizzati come parafulmine per la propria acclarata e palese incapacità gestionale.